Ciao, buongiorno, sono Valerio Orlando, titolare di Vormakeup e oggi ti voglio parlare di una nuova sezione entrata a far parte del grande mondo Vormakeup, Vormakeup Travel. Tra i servizi sul sito Vorm, oltre a quelli che sono messi a disposizione su prenotazione in una pagina dedicata alla parte dei servizi dove troviamo la consulenza d'immagine, la psicoanofromia, il salto Vormakeup, la preparazione alla sposa. L'idea è nata grazie ad una collaborazione con un partner d'eccellenza, Excellent Ambassador, è un servizio di luxury con Serge e di Vormakeup che ha permesso al mondo Vormakeup di aggiungere quelli che sono i propri servizi. Nel momento in cui abbiamo dato vita a questa partnership abbiamo creato 4 beauty retreat in Italia proprio per permettere a tutti i clienti Vormakeup in un luogo molto bello, circondato dal verde, circondato dai colori del lago di recuperare energie insieme a un momento dedicato alla freddezza. Gli ospiti avranno l'opportunità di sperimentare nuovi prodotti, i colori della nuova fondazione, le masterclass e i due make-up session one to one per 10 persone che potranno partecipare a questo bellissimo beauty retreat. Ci faremo trasportare da quello che è questo incantevole luogo per parlare di self make-up, per conoscere meglio forme e colori di ognuno di voi e darvi quindi il suggerimento ideale in un luogo dove potremo anche conoscerci più, perché il viaggio ci permette anche, oltre a quello che è il momento dedicato alla bellezza, di vivere proprio della bellezza che ci circonda e di fare maggiore conoscenza di noi. Il viaggio è sempre stato qualcosa che mi ha lasciato, e immagino anche a voi, un ricordo molto bello. Ritengo che unire un momento di bellezza in un luogo molto bello, possa fare la differenza. Cosa per lì? 10-12 maggio-2024, lago d'orcha, primo flip-flip-flip. Per chi prenoterà entro il 29 marzo, un regalo aggiuntivo, freddo speciale e una gift box tutta per voi. Cosa devi fare? Devi regatti sul sito www.vm.ca.com Dalla home page, clicca su Make a Travel e trova tutte le informazioni relative a tutti e quattro gli utenti per cui vi parlo, partendo e prendendo in considerazione proprio il primo, quello che sarà dal 10 al 12 maggio. Vi aspetto di spervivere, momenti di bellezza insieme, ma anche per conoscerci meglio. Vivo first!